Grazie di cuore, grazie a tutti, mi fa piacere aver vinto questo riconoscimento. Come potrebbe pensare Bersani? Beh, almeno qualcosa ha vinto anche lui. Ma al di là delle battute sono felice che si possa riflettere, ragionare, discutere. Anche grazie al vostro aiuto in modo diverso del rapporto tra nuove tecnologie, tra la rete e la politica. Troppo spesso si pensa che la rete sia semplicemente un contenitore dove i politici con il loro linguaggio, con il loro stile, con il loro modo di raccontarsi hanno un contenitore in più. E non è così, è proprio invece una rivoluzione, la rivoluzione di chi trova una realtà diversa da dover affrontare, da poter affrontare. Una realtà che è virtuosa per molti aspetti, prima ancora che una realtà virtuale. E io sono profondamente convinto che la politica, le regole del gioco della politica, la selezione della classe dirigente della politica, saranno sempre di più influenzate dalla rete, dai social network, dagli strumenti informatici e tecnologici. Allora, alla luce di tutto questo, oggi sono particolarmente orgoglioso di avere il vostro riconoscimento. Mi scuso per non essere con voi a Riva del Garda, ma girello con il camper e abbraccio a tutti. Grazie di cuore.